Beh, l'amarezza sicuramente rimane, però comunque dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno e quindi valutare la prestazione come positiva, perché comunque è stata veramente una prestazione positiva sotto tutti gli aspetti e fare tesoro della malizia che ci è mancata negli ultimi minuti. Mi sono trovato da subito molto bene con i compagni, col mister e anche con lo staff e con la società. Non mi aspettavo questa facilità di integrazione e niente, sono contento di aver fatto questa scelta. Un po' tra virgolette di fretta perché è arrivata all'ultimo giorno di mercato, però comunque sono contento di essere qui. Come ruolo invece è uguale, gioco un po' in tutti i ruoli di centrocampo. Forse il ruolo dove riesco a esprimermi un po' meglio è quello di mezza alabra trequartista, perché sono più vicino alle punte e riesco anche a liberarmi magari per il tiro, per un'imbucata verso gli attaccanti. Ed è il ruolo dove ho fatto meglio a San Benedetto. Ma in questo periodo del campionato tutte le partite sono difficili per chiunque, anche la prima contro l'ultima non è scontato che vinca. Com'è successo in questo girone? Ci aspettiamo una partita sicuramente tosta, la classifica parla per loro, non c'è bisogno di presentazione, però se ci lasceranno del campo noi per caratteristiche di giocatori saremo pronti a sfruttare.